L'investimento prevede il rafforzamento dell'orientamento e dello studio delle materie STEM, della computer science e delle lingue per tutti i cicli scolastici. Particolare attenzione viene data alle pare opportunità e all'uguaglianza di genere per far crescere nelle scuole cultura scientifica e forma mentis necessari per un diverso approccio allo sviluppo del pensiero computazionale. Questa linea di investimento mira anche a rafforzare l'internazionalizzazione del sistema scolastico e le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti attraverso l'ampliamento dei programmi di consulenza e informazioni su Erasmus+. Ecco i numeri di questa linea di investimento. 1,1 miliardi di euro per nuove competenze e nuovi linguaggi. Scopri di più